Che ti avevo detto? Un brindisimo, un brindisimo. Allora, alla salute degli indiani che abbiamo ucciso ed erubato. Hai ragione, Al. Salute. E' stato volentieri. Io invece brindo a voi un milione di bellissime... Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale, Sara! Veramente è il giorno del ringraziamento. Non per te. Tu non dovrai aspettare. E' solo a me o anche a voi? E' venuta una voglia irrefrenabile di cucina cinese? Anche a noi. Cinese. Buona idea. Vieto di vederti, Nelson. Tu lo sai come i cinesi festeggiano il Natale, Abner? E' il ringraziamento? No, ma buon Natale. Pensavo non venissi più. Grazie. Su, leviamo le tene. Per te, mia dolce Sara, io ho portato i dodici doni del Natale. uno, il famosissimo colombo, il salame che ci ha fatto conoscere. Due. Una calidoscopica parrucca per colei che avvaia in difesa dei randaggi. numero tre. Una frusta per la severa dominatrice. Affinché io mi pieghi alle tue regole e ti ubbidisca senza obiettare. Quattro. Ti presento Sara. Un'essenza su misura per sopraffare quella particolare non so che che una donna lascia su un uomo. Nelson, questo è... E' solo l'inizio. Cinque. Perché Harriet è così pelosa? La più accurata guida in commercio per comprendere meglio i vostri amici travestiti. Sei. Bolle di sapore. Per quei lussuriosi bagni nella vasca che a noi piacciono tanto. Numero sette. Cento gettoni per il tram. Per le numerose future corse della tua vita. Numero otto. Una raccolta di musiche romantiche. Oggetto che, guarda caso, richiama il dono numero nove. Un corso di danza. La Mildred Academy of Dance garantisce l'incolumità dei miei piedi entro sette giorni. Ne sei sicuro? Oh sì, e come? Numero dieci. Per la gentil donna che odia, detesta lavare i piatti. Una lavastoviglie! Oh Nelson, questo è troppo. No, non è abbastanza. No, non è abbastanza. Numero undici. In carne e ossa, nel tuo appartamento, richiesto a furor di popolo, ho qui per te, Ernie! No. Ciao, ciao piccolo. Oh, quanto mi sei mancato. E se l'ultimo dono non ti farà capire quanto ti amo, niente lo farà. E se l'ultimo dono non ti farà capire quanto ti amo, niente lo farà capire quanto ti amo, niente lo farà capire. E se l'ultimo dono non ti amo, niente lo farà capire quanto ti amo. Bravo!